Non c'è una p***a, c'è come muori. Niente che abbiu le mette fuori, non c'è una p***a, c'è come muori. Alla sera, quando passi alla gente che si fai, vuole strinzare che vuole come l'elicottero. Non per noi, ma la gente cambia la p***a, non c'è una p***a, c'è come muori. Perché la gente la passa dalla macchina, hanno ragione perché non c'è una p***a, c'è come muori. Capace per un motore, non c'è dei ricotti da uno. Non c'è anche dei ricotti da quello, ma anche dei ricotti sensati. Ho detto che ho un po' di medicina, ho un po' di sintagini perché la fai, c'è una p***a. C'è un po' di sintagini, perché i ricotti da uno, lì bisogna parlare. Perché già ora c'è un po' di vera, c'è una colera. C'è una p***a, c'è come muori, come muori, come muori, come muori, come muori.